Interventi alla cinta muraria della Rocca Malatestiana di Fano, assessore di che cosa si tratta? Si tratta di un intervento di consolidamento di quello che è la cinta muraria a ridosso della Rocca Malatestiana. Parliamo della cinta muraria proprio che si affaccia alla ferrovia. Un intervento che avevo segnalato a RFI nella pulizia di quello che è la vegetazione infestante che si era proprio radicata sulla muratura. In seguito a quella pulizia purtroppo gli operatori avevano notato che una parte di quell'apparato stava scendendo e quindi stava diventando pericoloso. Ora andiamo a riconsolidare la massicciata, quindi tutto quello che è la parte della muratura. Precisamente verrà allestito il cantiere senza interferire poi con la ferrovia. Ci sarà un consolidamento di quelle che sono le parti scollate con un risaldamento di mattoncini attraverso delle malte a base di calce. Tutto questo sarà per un'estensione di 30 metri, un'altezza di 3 metri su quello che appunto è il perimetro a ridosso della Rocca Malatestiana che si affaccia alle ferrovie, ricordiamo. Per un costo totale di 100 mila euro. Lavori che verranno affidati per il mese di dicembre, per cui dovrebbe essere anche abbastanza tempestivo. Un lavoro che va a preservare una delle mura difensive della città, una delle mura più antiche della storia, per il quale naturalmente ci adoperiamo nella salvaguardia.